questi sono i feltrini che vengono fatti quando si fa il filato bottonato questo è il marrone con tutti i bottoni giallo rosso bianco questo è il rosso antico con i bottoni gialli azzurri eccetera questo è il grigio chiaro e questo è il beige questi sono i bottoni sono piccolini noi abbiamo usato quelli più piccoli questo è l'azzurro questo è il bianco poi c'erano altri colori rosso fucsia giallo eccetera eccetera ecco qua come si fa il filato bottonato questi sono i bottoni di seta però ci possono essere di lana di cashmere eccetera eccetera